oggi vi portiamo nella nostra emozionante giornata prima lavanderia poi spesa e poi allenamento in home gym la parte più emozionante della giornata perché quella attuale non è molto emozionante un po di quotidianità io comunque devo vergognarmi perché ho il padre ortolano con un'azienda agricola e vado a comprare la roba al supermercato se vede questo video mio padre ci uccide questo non può mancare la mia dieta per diventare un uomo più grosso stasera per cena andiamo con questa che è buonissima mozzarella proteica senza grassi due grammi 6 praticamente tutta la mozzarella buonissima 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 finalmente siamo arrivati a casa e adesso è arrivato il momento dell'allenamento per me oggi ultimo allenamento della settimana quello che andrò a fare oggi sarà un allenamento un attimino diverso dal solito ovvero per il momento sto facendo 5 allenamenti totali di cui 4 classici diciamo con i pesi l'ultimo allenamento sarà un allenamento a circuito quindi andrò a fare un total body escludendo il dorso che in questo periodo non sto proprio per niente allenando per motivi di un'eccessiva massa muscolare a quanto pare per i canoni da gara per le bikini quindi attualmente non lo sto allenando andrò a fare un circuito 4 serie per 20 ripetizioni di ogni esercizio quindi userò anche dei pesi che a me non piacciono per niente ovvero questi e basta perché sono i più leggeri che ho qua in home gym ho anche quelli da 1,25 kg ma 2,5 kg va più che bene e andrò a fare appunto due esercizi per le braccia due esercizi per le spalle uno per i deltoidi posteriori e poi altri tre se non sbaglio per le gambe e uno finale per l'addome 4 serie 20 ripetizioni farò circa un minutino un minuto e mezzo alla fine di ogni giro è bello bello intenso quindi io direi che partiamo 5 serie 20 ripetizioni farò circa un minuto e 30 ripetizioni farò circa un minuto per il cristian Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.